proseguendo nella lettura del Vangelo secondo Matteo e continuando a leggere la sezione del Vangelo dedicata alla passione e morte di Gesù si arriva al brano del Vangelo che ha per titolo l'agonia di Gesù al Getsemani allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli sedetevi qui mentre io vado là a pregare e presi con sé Pietro i due figli di Zebedeo cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro la mia anima è triste fino alla morte restate qui e vegliate con me andò un poco più avanti cadde faccia a terra e pregava dicendo padre mio se è possibile passi via da me questo calice però non come voglio io ma come vuoi tu poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora vegliate e pregate per non entrare in tentazione lo spirito è pronto ma la carne è debole si allontanò una seconda volta e pregò dicendo padre mio se questo calice non può passare via senza che io lo beva si compia la tua volontà poi venne e li trovò di nuovo addormentati perché i loro occhi si erano fatti pesanti li lasciò si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta ripetendo le stesse parole poi si avvicinò ai discepoli e disse loro dormite pure e riposatevi ecco l'ora è vicina e il figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori alzatevi andiamo ecco colui che mi tradisce è vicino grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima